Babbo Natale è arrivato anche a Damasco. Nel quartiere di Babsharki, doni sono stati consegnati a 300 bambini che nel conflitto hanno perso uno o due genitori. I cristiani erano l'11% della popolazione siriana, molti hanno lasciato il paese, minacciati dall'ISIL. Stiamo distribuendo i regali ai bambini, ci sono figli di martiri che ora sono orfani. Stiamo cercando di dare regali a tutti i bambini siriani in generale. Possiamo tentare di aiutarli a dimenticare la guerra. Il patriarca della chiesa siriaca ortodossa ha affermato che la guerra finirà presto e poi inizierà la battaglia per la ricostruzione degli edifici e della popolazione. Grazie